È una bella storia di Natale quella che arriva da Palermo, dove l'ordine dei commercialisti e quello degli ingegneri hanno deciso di autotassarsi per pagare le spese di iscrizione all'università per due immigrati subsahariani. Ibrahim Koben Quattara e Edward Kofi sono sbarcati alcuni anni fa a Lampedusa con due carrette del mare. Oggi sono assistiti dalla missione di speranza e carità di fratello Biagio Conte, che da anni offre aiuto ai senza tetto, agli immigrati e ai meno fortunati. Il regalo di Natale, questo è il vero Natale, Natale che io ritengo tutti i giorni, Natale tutto l'anno, allora basta poco, basta poco, ma unire le forze io credo che noi ci riusciremo da questa crisi. Un gesto di solidarietà che aiuterà i due ragazzi a continuare a sognare un futuro migliore. Ibrahim è iscritto in cooperazione e sviluppo della Facoltà d'Economia, Edward ha ingegneria. Per entrambi sarebbe stato impossibile pagare le tasse. I componenti dei due consigli dell'ordine hanno accolto l'invito rivolto loro da Biagio Conte, mettendo mano al portafogli per pagare i bollettini universitari.